Alcuni malviventi si sono intrufolati nell'abitazione di Campagna, un ex casello ferroviario di Naro, che è stato comprato e ristrutturato da un professionista e sono riusciti a scardinare la cassaforte. Oltre ai soldi e oggetti di valore, lo scrigno conteneva una pistola calibro 28, due fucili sovrapposti calibro 12, una doppietta calibro 16 e un fucile calibro 20. Armi tutte legalmente detenute e messe a punto al sicuro dal professionista 67enne. Dal maxifurto di armi si è salvata soltanto una carabina Beretta calibro 22, che era stata lasciata fuori dalla cassaforte e riposta in un'altra stanza. Il professionista ha subito formalizzato una denuncia di furto a carico di ignoti.